Nell'era a Corintia è la prima protesta organizzata contro il Consiglio Comunale, o meglio contro i consiglieri sotto inchiesta per Gettonopoli. Domani alle 10 a Piazza Municipio si ritroveranno lì tutti coloro che si dichiarano indignati di quanto letto e sentito dagli atti dell'indagine condotta da Procure e Digos. La manifestazione è nata su Facebook, tra gli organizzatori Giampiero Gia, ex esperto del Sindaco a Corintia alla comunicazione. I partecipanti virtuali hanno già superato quota 800. Bisognerà vedere tra 24 ore quali cifre saranno raggiunte realmente. Nella nota di presentazione del sit-in si legge «Siamo stanchi, dopo l'ennesima vergogna, sulle commissioni consigliari fasulle e gettoni di presenza rubati. I cittadini onesti messinesi pretendono le dimissioni dei consiglieri comunali che hanno gettato ancora una volta discredito sulla nostra città. Diciamo basta, continua la nota, a questo schifo e ribadiamo che Messina è meglio di loro». C'è da dire che i consiglieri indagati sono stati eletti dai messinesi. Ci saranno anche gli elettori a manifestare o solo gli avversari politici?